Benvenuti gentili telespettatori a questa edizione del nostro telegiornale. La campagna informativa di CGL Cisle Will sulle morti sul lavoro è terminata oggi con un presidio davanti alla lamina. L'azienda è divenuta tristemente nota dopo la morte lo scorso anno di quattro operai. Hashtag fermiamo le morti sul lavoro. E' questo il titolo della campagna informativa di CGL Cisle Will di Milano, durata una settimana, che ha visto diversi gazebo sparsi per tutta la città e che ha avuto come obiettivo quello di accendere nuovamente riflettori sulla mancanza di prevenzione e formazione sui luoghi di lavoro. Con un dato davvero significativo e allo stesso tempo preoccupante. Da inizio anno già 16 morti nel milanese ed oltre 40 quelli in tutta la Lombardia. La campagna di CGL Cisle Will si è conclusa in uno dei luoghi divenuti nella tragicità simbolo delle battaglie contro le morti bianche. La sede della lamina, l'azienda metallurgica milanese, dove il 16 gennaio 2018 morirono quattro operai a causa di una fuoriuscita di gas argon nella vasca di un forno. E' una campagna di sensibilizzazione che appunto chiude qua in lamina, che è un po' il luogo simbolo del nostro territorio dove l'anno scorso ci sono stati quattro infortuni mortali. Quello che noi vogliamo fare in questo modo è fare in modo che non si associ l'aumento degli infortuni mortali da noi con l'aumento della ripresa economica. In realtà quello che abbiamo visto in questi due o tre anni è che i morti sul lavoro capitano sempre per gli stessi motivi. C'è una scarsa formazione, la prevenzione è fatta male perché non c'è mai una valutazione corretta di quello che è il rischio nell'azienda e poi ci sono anche una serie di misure che sono state approvate anche ultimamente come ad esempio lo sblocca cantieri che ad esempio bloccano il codice degli appalti per almeno due anni. E quindi questo è chiaro che non ci favorisce nella tutela, nella prevenzione dei lavoratori. Tra l'altro già da inizio anno sono 16, voi denunciate già 16 morti soltanto nel milanese. Sì, da inizio anno fino ad aprile dati ufficiali INAIL, sono 48 in Lombardia e 16 a Milano. Sono lo stesso numero dello scorso anno ma tenete conto che lo scorso anno c'erano stati gli infortuni anche plurimi. Quest'anno, quest'anno no. E quindi come dire il trend continua ad aumentare.